Adesso l'ufficiale, Simone Giannelli è il nuovo capitano di Tarantino Volley. Simo, immagino per te è un grande orgoglio ma anche una bella responsabilità. Sì, è una cosa nuova per me. Sono molto molto felice di questa opportunità che mi è stata data da Tarantino Volley. È una bella responsabilità. Dovrò imparare a calarmi in questo ruolo perché l'ultima volta che l'ho fatto è stato in Under 14 quando aveva vinto la Boy League quindi avrò tanto da imparare. Sarà uno stimolo in più per me poter poter stare qua Trento e migliorare anche sotto questo punto di vista. Però mi verrebbe da dire che la naturale prosecuzione di questa tua bella carriera in Tarantino Volley, visto che vieni dalle giovanili, succede a Pippo Lanza che era stato appunto un riferimento anche nelle giovanili, non potevi che essere tu. Sì, infatti sono felice anche per quella cosa lì. Insomma, come Pippo anche io arrivo dalle giovanili quindi è un continuo crescere e sono felice di poter stare qui a portare in alto il nome di Trentino Volley. Abbiamo visto in questo periodo anche sui cartelloni pubblicitari, campagne abbonamenti, quindi sei un simbolo della squadra che sarà. Si parla di una stagione molto importante, prima ci sono i mondiali poi però ci sarà veramente da emergersi in una stagione interessante sotto tutti i punti di vista. Si è detto bene, prima ci saranno i mondiali, li stiamo preparando su a cavalese, ci stiamo allenando molto. Dopo i mondiali, come sempre, avremo pochissimo tempo per prepararci, avremo la Supercoppa, un trofeo che subito proveremo a conquistare. Ovviamente giocheremo contro Perugia, quindi la conosciamo bene, però avremo molta voglia di far bene. La squadra c'è, sono molto felice di ciò che Trentino Volley ha fatto, quindi ci sarà solo da allenarsi e migliorare. Birarelli e Lanza, in prima squadra, sono stati i tuoi esempi come capitani e sono i due capitani che hai avuto prima appunto di diventare. Ti hanno insegnato qualcosa da questo punto di vista? Sicuramente tutti e due avevano degli stili diversi, sicuramente di leadership, però secondo me posso prendere qualcosa da entrambi. In primis da Bira, che è stato anche il capitano nazionale, quindi molta esperienza. Ma anche lo stesso Pippo, che comunque da anni è il capitano di Trento, quindi anche da lui dovrò imparare qualcosa. Non dimentichiamo che tutto questo arriva alla sua età di 22 anni, sei il più giovane capitano della storia di Trentino Volley. È un'altra cosa bella in più. Bene, buona estate, buon campionato del mondo e poi ci rivediamo a Trento, stavolta con la striscetta sotto il numero. Va bene, ciao! Grazie. 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 Grazie.